All'attenzione della Terza Commissione Consigliare Permanente, presieduta dal Consigliere IV, la proposta di legge che detta modifiche alla legge regionale su norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Audito il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Basilicata, Colangelo, per il quale non è sufficiente la modifica della legge regionale per ridurre il rischio sismico sul territorio, c'è bisogno di una nuova legge, moderna e al passo con i tempi, con un regolamento attuativo, chiaro ed esaustivo, che rappresenta il vero punto di forza di una regione che in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ha tanto ancora da fare. Altra forte criticità ha proseguito la carenza di personale presso l'Ufficio Difesa del Suolo rispetto al numero di pratiche da evadere. Improcrastinabile, quindi, un nuovo modello di governanza del nostro territorio che si basi sul rafforzamento degli uffici regionali che devono fare programmazione e controllo, sull'ottimizzazione delle risorse umane ed economiche, l'aumento dei controlli, l'impiego delle libere professioni che sono preposte all'attuazione della programmazione regionale. I presidenti del Collegio dei Geometri di Potenza in Matera, Bruzzese e Cotrufo, reputano urgente snellire le procedure, ma soprattutto garantire tempi celeri e certi, per poter agevolare il più possibile una ripresa economica e lavorativa per una regione che appare sempre più agli ultimi posti. Necessario, quindi, uno snellimento sia in termini di procedura, sia di tempistica, per sgravare gli uffici regionali da un enorme mole di lavoro e rendere applicabili le opportunità relative al sisma bonus.